La mamma Romina Power bellissima, una dea. Trattenete il fiato. Romina Power è uno dei personaggi più noti del nostro paese. Vi siete mai chiesti come sia stata la mamma di questa meravigliosa donna? Linda Christian, scomparsa ormai nel lontano 2011, è nota per essere stata una talentuosissima attrice e moglie del famoso Tyron Power. Romina Power è quindi considerabile una vera e propria figlia d'arte. Anche il papà era un attore molto conosciuto. Linda Christian è scomparsa qualche anno fa per colpa di un brutto male. La nostra mitica cantante Romina le è stata sempre vicina e l'ha aiutata moltissimo specialmente nell'ultimo periodo della malattia. Il loro rapporto doveva essere davvero bello. La famosa attrice, moglie del tenebroso Tyron, iniziò ad avere tantissimo successo dopo aver interpretato il ruolo di Valérie Matisse in Casino Royale nel 54. La sua bravura e la sua straordinaria bellezza l'hanno infatti resa subito un personaggio molto noto del mondo cinematografico. Negli anni 40 il suo fascino le fece assumere il soprannome di The Anatomic Bomb. Il successo mediatico aumentò a dismisura nel corso degli anni. Dopo essersi sposata con il bellissimo attore, la giovane coppia concepì Romina Power. La cantante assomiglia molto alla sua mamma. I lineamenti sono delicati e ben definiti. Secondo ciò che ha raccontato in numerose interviste Romina Power, la madre è sempre stata una donna molto forte e determinata. Anche nel periodo della malattia infatti la donna non deve mai essersi arresa. Il racconto di questa esperienza con il brutto male e del rapporto madre-figlia in questo ultimo periodo è presente nel romanzo, Ti prendo per mano. Questo romanzo autobiografico, scritto dalla Power racconta con sincerità la dura lotta contro la malattia di Linda.